Per una sera la comunità dello Spirito Santo è tornata a celebrare la messa all'Istituto Vallauri che quasi 40 anni fa ospitava nella palestra le messe domenicali della nuova parrocchia fossanese. La messa è fare memoria, come ha ricordato Don Denis, ma fare memoria significa rendere presente ciò che è stato, farlo vivere e guardare al futuro con spirito giovane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Nel 1982 con la mia famiglia ci siamo trasferiti in questa zona della città, era già nata la parrocchia. Il primo incontro con Don Renzo Abrate è stato nella scuola elementare quando lui era insegnante di religione. E qui ho ritrovato, in questa nuova parrocchia appena costituita, Don Renzo Abrate come parroco. Ho subito iniziato anche a dare un po' la mia disponibilità. Nel cammino abbiamo chiesto di utilizzare la palestra della scuola e lì è stata già una bella conquista perché almeno avevamo un posto solo dove, anche grande, perché negli altri punti erano piccoli, bisognava un po' arrabattarsi a fare delle cose. E lì abbiamo fatto anche un bel cammino. Don Renzo poi ha messo anche tutte le sue qualità, che erano tante, e ha vissuto anche qui la sua parte di missione, con noi, sia perché era arrivato e non conosceva nessuno, sia perché era tutto anche da costruire. Ha trovato però, e penso a tante persone che non ci sono più, ma anche altre che ancora ci sono, della disponibilità. e quindi della collaborazione e tutti insieme si è costruito qualcosa. Noi siamo venuti in questa zona nel 1980, quando non c'era ancora chiaramente né parrocchia né chiesa. I primi tempi sono stati tempi molto belli, anche se non avevamo la struttura. Ricordo molto bene che il catechismo lo facevamo in casa. Ricordo il corso fidanzati, lo facevamo nella garage dell'alloggio di Stefano Cardone, dove c'era appunto il centro parrocchiale, quando non esisteva ancora la chiesa. Ricordo anche i bei momenti conviviali che si facevano, con l'assaggio di tutti i cibi di tutte le regioni, perché erano 19, se ricordo bene, le regioni di questa zona. di questa comunità. Parlare di Don Renzo e parlare proprio dello Spirito Santo. Lo ricordo la prima volta che è venuto a dire messa nel nostro condominio. Allora, il sabato sera si passava a mettere i foglietti, ovviamente ci mettevamo d'accordo con lui, dove avrebbe detto messa. Quindi nei vari condomini si mettevano i fogli. Stasera messa in via Sparla. Ricordo la prima volta che è venuto da noi. Era arrivato con una borraccia di quelle plastificate piccoline e con una ciotola per dire messa. Non lo conoscevamo nessuno. Terminata la messa, un condomino dice, ma qui dobbiamo raccogliere dei soldi, perché la nostra chiesa non ne ha. Allora si è tolto il cappello ed è passato a raccogliere i soldi. Cioè, eravamo con Don Renzo che continuava a farci cantare chiesa di mattoni no, chiesa di persone sì. Veramente eravamo una chiesa di persone. Ed era molto, molto, molto bello. Via della Valle 12 era il luogo dove ci trovavamo per preparare i campi, per preparare i gruppi, quando ancora non c'era la chiesa e non c'era l'ufficio parrocchiale. Ho dei ricordi bellissimi legati a questo condominio, quando nel garage c'era, diciamo, il magazzino, c'era ancora il ciclo stile e per esempio Don Renzo ci chiedeva di preparare le schede o per il catechismo o le schede per i gruppi e mentre al primo piano c'era l'ufficio parrocchiale dove solitamente Derio ci convocava per organizzare i campi, per decidere chi erano gli animatori, chi erano gli sguaz. E in quel periodo non c'era ancora tutta la struttura di cui oggi invece godiamo, ma c'era proprio l'intraprendenza di tantissimi. Eravamo veramente tanti. Ognuno faceva la sua parte e anche un po' di più. E c'era da parte dei sacerdoti tantissima fiducia, cioè ci hanno proprio responsabilizzato. E questo per noi è stato importante. Ci ha fatti sentire protagonisti e da lì è cominciato un senso di appartenenza che ci ha accompagnato durante gli anni dei gruppi, durante i vari percorsi che abbiamo fatto e che secondo me ciascuno di noi si porta dentro e forse in parte ha proprio costruito la nostra identità, la nostra identità di persone. Allora, quando sono arrivato qua era costruita la chiesa, quindi c'era la casa. La casa che questa comunità che è iniziata anni prima aveva finalmente desiderato ed è finalmente era stata costruita. Quindi questa comunità estremamente effervescente perché ha costruito la parrocchia come se fosse casa propria, vedeva realizzato il suo sogno. E quindi è iniziato un cammino diverso, tutto nuovo. Tutti i sacerdoti che si sono susseguiti in questa parrocchia hanno tutti scommesso sui laici e su questa comunità effervescente che si era creata attorno a questo quartiere anticipando forse i tempi di adesso. Quindi bastavano pochi input per far sì che tantissime iniziative partissero in tutte le direzioni dai piccoli ai grandi allo stare insieme. Già in nome, Spirito Santo, ci viene detto che cosa? Che siamo chiamati a essere giovani, a avere uno spirito giovane.